Vediamo adesso il funzionamento di un circuito puramente resistivo, cioè un circuito il cui unico componente passivo lineare sia un resistore. Un circuito quindi molto semplice, che sarà anche semplice da analizzare, ma i cui concetti saranno validi per il proseguo del corso. Supponiamo quindi di avere un circuito composto da un resistore e da un generatore, che in questo caso supponiamo sia un generatore di corrente. Indichiamo il verso della corrente del generatore, il generico fasore I impresso dal generatore nel circuito. In queste condizioni abbiamo che la corrente del generatore è l'unica corrente nel circuito che mantiene il verso impresso dal generatore. Rispettiamo la convenzione sui segni, quindi individuiamo la tensione ai capi del resistore con il segno più dove la corrente entra. Diamo dei valori alla corrente per fare un esempio di calcolo. Supponiamo che la corrente abbia un'intensità di 0,5 A con una fase di meno pi greco quarti, espresse in radianti. Supponiamo ancora che il nostro resistore abbia un valore di 2 Ohm. Il valore di 2 Ohm ovviamente è un valore reale, ma noi possiamo immaginarlo sempre come un numero complesso a 20 modulo 2 e fase 0. Questo ci servirà nel seguito, nello sviluppo dei calcoli. Andiamo quindi a determinare la tensione ai capi del resistore. Tensione che noi ovviamente ricaviamo dall'applicazione della legge di Ohm generalizzata nei nostri circuiti in regime sinusoidale. Quindi la tensione ai capi del resistore sarà data dal prodotto della corrente che attraversa il resistore I moltiplicato per l'impedenza del resistore ZR. Quindi, passando alle rappresentazioni modulo e fase, la corrente I con la sua fase I con I moltiplicata per l'impedenza ZR con il suo angolo caratteristico FI con R. Quindi andiamo a ricordarci come eseguire le operazioni con numeri complessi, in particolare la moltiplicazione. Quindi il modulo del prodotto è uguale al prodotto dei moduli, quindi modulo di I per modulo di ZR e la fase data dalla somma delle fasi della corrente e dell'impedenza resistiva. Quindi, nel nostro caso e con il nostro esempio numerico avremo il modulo della corrente 0,5 A moltiplicato per il modulo dell'impedenza 2 Ohm e la fase, la somma delle fasi. Quindi, fase della corrente meno pi greco quarti in radianti più fase dell'impedenza del resistore 0. Quindi abbiamo 0,5 per 2, 1, meno pi greco quarti più 0, meno pi greco quarti e questa è la nostra tensione, quindi in volt. Andiamo quindi a vedere nel dettaglio la tensione ai capi del resistore. Abbiamo detto che è un volt fase meno pi greco quarti, la corrente, abbiamo detto che è 0,5 A fase anche essa meno pi greco quarti. Portiamo l'unità di misura, quindi volt, ampere. E andiamo a rappresentare sul piano di Gauss questi due fagioli. Vedete, evidenziate la fase di entrambi i fagioli, vedete che le fasi sono uguali. Meno pi greco quarti per la tensione, meno pi greco quarti per la corrente. Ovviamente questo valore dipende dall'esempio che stiamo considerando, ma il fatto di validità generale è che la tensione ai capi del nostro resistore è in fase con la corrente che attraversa il resistore stesso. Questo è un risultato sempre valido e che ricorderemo. Andiamo adesso a rappresentare sul piano di Gauss i fasori della tensione e della corrente. Piano di Gauss, quindi, abbiamo in ascisse le parti reali, inordinate le parti immaginari dei numeri complessi. Quindi, rappresentiamo il vettore della corrente, quindi un vettore avente modulo 0,5 e fase meno pi greco quarti, quindi meno 45 gradi. Quindi, vettore, quindi della corrente, adesso rappresentiamo il vettore della tensione, quindi abbiamo detto il modulo 0,5 per la corrente. Il vettore della tensione ha la stessa fase, quindi un vettore che giace sullo stesso angolo della corrente, quindi in questo modo, la sua ampiezza nel nostro esempio numerico è pari a 1 volt e la fase è ancora meno pi greco quarti radianti, cioè meno 45 gradi. Grazie. Grazie.